ciao bambini sono il pupazzetto della maestra paola e adesso vi leggerò un libretto siete pronti? perfidi insettini betti la blatta di notte va a zonzo senza riguardi si intrufola nella ciabatta ma che faccia di bronzo il ragno è un tipo assai spiritoso fa solo un po' di impressione perché è molto peloso il bruco sì che ci sa fare se lo trovi nel panino però fa vomitare il pipistrello non fa danni se resta appeso all'attaccapanni la biscia ha un difetto striscia nel letto ma lo fa perfetto allora bambini vi è piaciuto il libretto? e qual è il vostro perfido animaletto preferito? betti la blatta? il ragno? il bruco? oppure il pipistrello? sarà per caso la biscia? aspetto i vostri disegni del vostro perfido animaletto preferito ciao 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 ciao